Chi sono i poveri di spirito? Sono coloro che sanno di non bastare a se stessi, di non essere autosufficienti, e vivono come indicanti di Dio. Si sentono bisognose di Dio e riconoscono che il bene viene da lui, come un dono, come grazia. Chi è povero in spirito, fa tesoro di quello che riceve, perché desidera che né un dono vada sprecato.